Grazie a tutti. 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 Per quanto riguarda la lotta contro l'Isis, perché questo deve essere il nostro obiettivo, distruggere l'Isis. Dobbiamo avere la volontà di riunire tutti coloro che vogliono agire in questo senso a livello internazionale. Ma con obiettivi chiari è l'Isis che deve essere distrutto e questo è il senso dell'iniziativa che ho assunto e la visita di Matteo Renzi si inserisce in questo processo. Noi dobbiamo anche prendere iniziative diplomatiche rispetto a due grandi questioni che sono appunto la causa della nostra tragedia e della sofferenza delle popolazioni, la Siria e la Libia. La Siria è il processo di Vienna che deve essere portato a termine con una transizione politica e con elezioni che necessariamente porteranno alla partenza di Bashar al-Assad. e dobbiamo riunire tutti i paesi interessati alla questione. Non bisogna scantarne nessuno, ma contemporaneamente dobbiamo avere una linea chiara per trovare la soluzione. In Libia dobbiamo adesso realizzare ciò che è da tanto tempo atteso sia un'unione nazionale e la messa in sicurezza del territorio, impedendo all'Isis di insediarsi e di progredire. Con Matteo Renzi abbiamo parlato della questione dei profughi, dei rifugiati. Domenica ci sarà un Consiglio europeo in presenza delle autorità turche. E noi, come ho deciso ieri con la Cancelliera, dobbiamo avere un accordo globale con la Turchia per la sicurezza di tutti i confini e poter accogliere i rifugiati in Turchia in condizioni che consentano loro di rimanere vicini al proprio paese di origine senza dovesse dirigere verso l'Europa. Ma rispetto a questa questione dei rifugiati, dobbiamo anche rafforzare quello che abbiamo già creato, gli hotspot, in modo da poter garantire il controllo dei nostri confini esterni ovunque. E' ciò che da diversi mesi sta facendo anche l'Italia e noi dobbiamo sostenere questo sforzo. Signore e signori, a Mosca, dove mi recherò, parleremo di questa orribile tragedia, questi incontri ci devono aiutare ad andare avanti. Non ci sarebbe nulla di peggio che la comunità internazionale, di fronte a questi pericoli, il pericolo del terrorismo, della minaccia, dell'ISIS, ovunque, nella regione e oltre, che la comunità internazionale, dicevo, non prendesse le decisioni necessarie. Grazie, signor Presidente, Francia e Italia sono due nazioni sorelle e mai come in questo momento abbiamo sentito una vicinanza profonda con il popolo francese. non soltanto in memoria di Valeria, la nostra connazionale uccisa, ma abbiamo sentito veramente il dolore di questa nazione come il nostro dolore, come se la nostra bandiera che è divisa da un colore diventasse quasi la stessa. ed è molto bello anche, pur nella tragedia, sentire in questo momento in Italia, in questi giorni, in queste ore, tanti bambini sentire e cantare la Marsigliese. È una cosa che credo dia il senso di come a Parigi si sia fatto un attentato non solo contro la Francia, ma contro l'Europa e l'umanità. Ho dunque creduto opportuno ringraziare François Hollande per l'iniziativa anche diplomatica che lui ha preso. Credo sia molto interessante. Nel giro di una settimana il Presidente della Repubblica Francese ha incontrato e incontrerà i principali leader mondiali, anche attendendo poi tutti a Parigi, a partire dal lunedì, per un importante appuntamento a cui va la nostra attenzione e che, come ha detto giustamente François, costituisce comunque la risposta del mondo libero a ciò che è accaduto, una risposta del mondo libero. Questo sforzo diplomatico del Presidente Hollande è uno sforzo che noi seguiamo con grandissima cooperazione, grandissimo interesse, lo consideriamo un fatto positivo e pensiamo che debba arrivare alla conclusione necessaria, che è quella di avere, appunto, utilizzo le parole di François, non soltanto la necessaria reazione, assolutamente necessaria, ma anche una strategia globale, diplomatica, militare, umanitaria, culturale e civile. E da questo punto di vista l'Italia conferma i suoi impegni a fianco della Comunità europea, della Francia e di tutta la coalizione dal punto di vista diplomatico. In particolar modo guardiamo con grande interesse al processo di Vienna per ciò che attiene alla Siria e siamo particolarmente impegnati perché questa finestra di opportunità che sia aperta a livello diplomatico possa allargarsi alla Libia per le considerazioni che il Presidente Hollande ha espresso molto meglio di me. Siamo impegnati a livello militare, in molti casi assieme alla Francia, penso al Libano, ma non solo al Libano, in tutti i settori, nella coalizione contro Daesh, in Iraq e in Siria, nella coalizione in Afghanistan, in Libano, ma nel Kosovo, in Africa, dove è molto forte l'impegno dei nostri amici francesi, dove anche noi abbiamo alcuni interventi a partire dalla Somalia. Pensiamo però che ci sia necessità di uno sforzo sempre più inclusivo, che ci sia una coalizione sempre più ampia e sempre più capace di dare una risposta che porti all'obiettivo che Hollande ha espresso molto chiaramente, la distruzione di Daesh e del disegno atroce e allucinante che esso rappresenta. E, infine, noi pensiamo che ci sia bisogno di una risposta culturale che la Francia e l'Italia, in primis, possono dare, perché apparteniamo a due grandi nazioni con due grandi storie, con due grandi responsabilità. Il nostro passato mette le vertigini, ma questo passato richiede che noi possiamo costruire un futuro. Vale per le nostre scuole, vale per i nostri giovani, vale per i nostri luoghi di cultura. François ha detto nelle ore immediatamente successive, come fosse drammatico, il fatto che si colpissero degli obiettivi quotidiani, di quotidianità, un teatro, un luogo di musica, un ristorante, più ristoranti, uno stadio. Bene, si è cercato di colpire al cuore l'idea stessa di ciò che noi siamo, l'identità, la cultura francese ed europea. Noi ci sentiamo, da questo punto di vista, impegnati, esattamente come lo siamo a livello diplomatico, esattamente come lo siamo a livello militare, per affermare che i nostri valori sono molto più forti della loro barbarie. Infine, sui rifugiati, trovo importante che domenica si possa fare un punto con la Turchia. Condivido totalmente le considerazioni del Presidente Hollande. Noi abbiamo la necessità di avere un accordo globale, non dimenticando quello che accade in Giordania, non dimenticando quello che accade in Libano, non dimenticando ciò che soffre la Grecia, ma contemporaneamente partendo dal presupposto che un accordo globale con la Turchia può essere davvero significativo nella realizzazione di un diverso modello di accoglienza anche dei rifugiati richiedenti asilo. È evidente che l'unico modo con il quale si può mettere la parola fine all'esodo dei richiedenti asilo, dei rifugiati, degli immigrati, non può essere che quello di bloccare le guerre civili. La Francia sta facendo molto, in particolar modo in Africa, ma non solo in Africa. È fondamentale lo sforzo che potremo mettere in campo per la Siria, naturalmente, ed è molto rilevante che il Presidente Hollande, dopo aver incontrato Obama, oggi si recchi a incontrare il Presidente Putin. Allo stesso modo credo che sarà fondamentale per tutte e per tutti dare priorità assoluta, ne abbiamo parlato con il Presidente, ne abbiamo parlato con i Ministri Fabius e Gentiloni, al dossier Libia che rischia altrimenti di essere la prossima emergenza. Per tutti questi motivi vorrei davvero di cuore ringraziare il Presidente Hollande, ci rivedremo lunedì qui a Parigi, ma ci tenevo a ringraziarlo anche personalmente, a dargli il senso di un'amicizia, che è un'amicizia dei nostri Paesi e anche un'amicizia personale, e a dare la condivisione del dolore di tutti gli italiani e l'abbraccio, perché penso che oggi dire viva la Francia significhi dire viva l'idea stessa che noi abbiamo del mondo, della cultura e, se mi permettete, anche dell'ideale che deve unirci sempre di più. Grazie mille.